Ciao ragazzi! Ciao Barton! Sapete che quest'anno Kinder più Sport più One Click è in edizione speciale? Sì! Quest'anno ci sono le Olimpiadi a Rio. E allora bisogna tifare tutti insieme i nostri atleti olimpici. Per questo le associazioni che vorranno partecipare all'edizione Kinder più Sport più One Click del 2016 dovranno unirsi insieme a noi in un unico grande tifo, nello spirito di Joy of Moving. Una ola gigantesca che ci misce tutti a tifare Italia Team. Olore! Quest'anno con me ci sono altri grandi atleti. Uniamoci insieme per una grande ola. Vero Alessandra? Certo Carton! Ma guarda cosa ti abbiamo preparato! Ragazzi siete pronti? Sì! 3, 2, 1, vai! Visto che spettacolo? Ogni associazione dovrà coinvolgere anche chi vota. Anche loro potranno caricare una propria ola nella bacheca dell'associazione preferita, regalandole 5 punti in più. Effetto onda! Proprio così Alessandra e tu te ne intendi di onde. Il meccanismo è molto semplice. Le associazioni si iscrivono sulla piattaforma dell'iniziativa, postano il video della propria ola, cercano di raccogliere più voti possibili per la propria ola, coinvolgendo tutti in questa grande festa. Vero Massimiliano? Certo Carton! Guarda che cosa ti ho preparato! Pronti ragazzi? Via! Hai visto che bravi i miei ragazzi? Quest'anno sono ancora più coinvolgenti. Possiamo usare tantissimo i social. Instagram, Facebook, Twitter. Utilizzando l'hashtag dell'iniziativa. Tutti potranno pubblicare sui propri profili. I contenuti saranno automaticamente postati sulle galleri delle associazioni. Tutti a votare e tutti a fare la ola. Olle! Valerio, cosa ci fai vedere? Carton, anche noi abbiamo la nostra ola ed è molto più bella ed elegante di quella di Massimiliano e viene anche da più lontano. Guarda! Siete pronti ragazzi? Sì! Uno, due, tre! Olle! Abbiamo saputo che tutte le ola migliori verranno caricate in un video che accompagnerà l'Italia Team a Rio 2016. Speriamo tanto che la nostra ci sia. Quest'anno ci sarà anche un premio della giuria composta da Alessandra, Massimiliano, Valerio e da me. Una grande squadra. Voteremo le nostre tre ola preferite. Le associazioni autrici di queste tre ola potranno passare una giornata con un atleta dell'Italia Team il prossimo settembre. Alle cinque associazioni italiane con la ola più votata del web Kinder più Sport donerà 40.000 euro complessivi in attrezzature sportive e materiale tecnico. E per saperne di più? Basta collegarci agli indirizzi che appariranno fra poco! Grazie a tutti!